Il tempo stringe meno 53 giorni al fatidico 25 settembre, quando si andrà alle urne per rinnovare i rappresentanti in Parlamento. Sarà il 2022 l'anno in cui si giocherà la prima campagna elettorale estiva nella storia dell'Italia repubblicana. Finora tutte le tornate elettorali si erano susseguite da febbraio a giugno, mai nella seconda parte dell'anno, proprio per ovviare alle rigide scadenze imposte dall'iter di approvazione della legge di bilancio, da approvare inderogabilmente entro la fine dell'anno. Ma facciamo un passo indietro perché per i partiti saranno già diversi gli impegni elettorali ai quali addempere prima dell'Election Day. La prima deadline sarà breve, tra il 12 e il 14 agosto i partiti dovranno depositare al Ministero dell'Interno i simboli con cui si presenteranno alle elezioni, specificando anche il programma, il capo della forza politica e soprattutto le coalizioni. Circa una settimana dopo si arriva al secondo checkpoint, tra il 21 e il 22 agosto i partiti dovranno presentare le liste dei candidati scelti, sia per i collegi uninominali sia per i plurinominali, passaggio fondamentale che può determinare il risultato delle elezioni, visto che la scelta di un candidato piuttosto che un altro in un certo collegio può fare la differenza. Dulcis in fondo il 26 agosto scatta l'inizio della propaganda elettorale in piena regola e si potranno cominciare a fare comizi senza informare la questura. Si andrà avanti fino al 24 settembre quando scatterà il silenzio elettorale. Inoltre il 26 agosto verranno nominati i presidenti di seggio, mentre tra il 31 agosto e il 5 settembre verranno disegnati gli scrutatori. Il 22 settembre sarà invece l'ultimo giorno per indicare i rappresentanti di lista. Per concludere, dal 10 settembre in poi, 15 giorni prima delle elezioni, non potranno più essere diffusi sondaggi. Lo prevede l'autorità garante delle comunicazioni, proprio per non influenzare le intenzioni di voto.